Sono Nadia Bonora, referente di Sinistra Ecologia e Libertà della Valle del Samoggia, faccio parte del coordinamento provinciale. Il progetto di fusione, l'ipotesi di fusione ci ha sempre interessato fin dall'inizio, ma purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di costruire, co-costruire il progetto insieme ai proponenti, sindaci proponenti dei cinque comuni della Valle del Samoggia e neanche a livello politico di condivisione con il Partito Democratico di questa ipotesi. Pertanto siamo pervenuti a questa decisione di dire di no, anche se veramente a malincuore, perché l'ipotesi non è stata supportata da un vero progetto e questo è il problema. Non esiste un vero progetto, pertanto non ci è stato detto quali saranno i reali costi di questa fusione per i singoli comuni, per i cittadini, non ci è stato detto come verrà riorganizzato il personale che dovrà essere coinvolto per costruire il nuovo comune, non ci è stato detto dove sarà collocato il capoluogo di questo nuovo comune, non ci è stato detto quanto e su cosa verranno spesi i soldi che Regione e Stato daranno per questo progetto. Insomma, tante sono le ragioni. Pertanto noi abbiamo considerato che sia meglio, sia più opportuno che i cittadini intanto vadano a votare, perché è un diritto che bisogna esercitare e che votino no, perché non si chiude è un'opportunità votando no. Anzi, si aprirà la possibilità di avviare dei percorsi di partecipazione con la cittadinanza per appunto considerare quale possa essere la riorganizzazione migliore a livello istituzionale in un quadro anche di città metropolitana. Queste sono le nostre considerazioni principali, poi è ovvio che ci sarebbero anche tante altre cose da dire in dettaglio su ogni singolo aspetto. Grazie.